Allora, 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 siamo a Lucca, siamo al Comics, mi hanno detto che c'è Thor, lo devo per forza intervistare, lo devo per forza intervistare, andiamo a cercare Thor? La frase tipica di Thor è Per Asgard. Io sono Gianni, vengo a Lucca da ormai 4-5 anni e sono appassionato di Thor, infatti ho il costume di Thor, ho 41 anni e sono appassionato del personaggio più che altro. Il costume in parte è fatto da me, in parte è fatto da un mio amico che fa le vocazioni medievali tipo l'armatura, io ho fatto il mantello, gli stivali, il giubbino sotto, eccetera. E quello che riesco me lo faccio io e quello che non riesco a fare, che non sono capace a fare, lo compro, qualche amico che magari è capace a fare qualcosa me lo faccio fare. Ciao, sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video. Se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace qua sotto. Magari potresti anche iscriverti al mio canale, sto preparando dei video davvero eccezionali per te. Ti passerà cliccare sull'icona qua di fianco o rotonda, quella con la mia faccia, e troverai anche due riquadri qua di fianco. Quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che è appena finito di guardare. Quello più in basso invece ti farà cambiare completamente argomento, ma sono sicuro che ti piacerà un sacco. Bene, allora grazie per il mi piace e buona visione. Ciao!